Sono passati ormai venti anni, dal giorno in cui Kurt Cobain è stato ritrovato morto. L'autopsia rivelò che si era suicidato, con un colpo di fucile alla testa. Come accade spesso, quando si tratta di veri e propri miti del mondo della musica, anche in questo caso un alone di mistero ha circondato la vicenda sin dall'inizio, portando molti ad avanzare le più disparate ipotesi sulle reali cause della morte. In queste ore, la polizia di Seattle ha aggiunto un nuovo tassello alla scomparsa delle Ader di Irvana. È spuntata, infatti, una lettera che l'artista aveva scritto alla moglie e che conservava nel portafoglio, ritrovato vicino al suo corpo. La polizia ha custodito le parole di Kurt Cobain, per tutti questi anni. Nella breve nota, diffusa da CBS, si legge. Vuoi tu, Kurt Cobain, prendere Kurt Ney Michele Love davanti alla legge come tua moglie devastata, anche se è una terre asterisco asterisco a con i verufoli e succhia tutto il tuo denaro per sballarsi e fare l'azzo asterisco asterisco asteriscola? Chi se ne freida?